E' un paese invernale delle meraviglie per cuccioli! Ci sono un igloo, una collina per slittini e... Cuccioli super vivaci! Ehi, faccia attenzione! Stanno benone! Cosa potrebbe andare storto? Quello potrebbe andare storto. Per mille bolle! Una vera crisi! Come possiamo aiutarli a smettere di singhiozzare? A volte il solo modo per far passare il singhiozzo è una distrazione divertente. So già cosa! Che ne dite di un bel gelato arcobaleno? Sì, facciamolo! Perfetto! Prossima tappa, campi di neve color arcobaleno scintillante! Oh, ma chi rimane a casa con i cuccioli? Io non posso dire di no a questa tenerezza! Arriviamo! Ce l'abbiamo fatta! Wow, un paesaggio arcobaleno! Sono incastrata! Non immaginavo che potesse essere così fitto! Pensavo che inoltrarsi in un campo di arcobaleni sarebbe stato più semplice! Davvero? Guarda! Sirene dai scintillanti colori dell'arcobaleno! Ehi, ciao! Possiamo avere un po' di aiuto, per favore? Oh! Salve, visitatrici! Vedo che non avete le pinne! Beh, è solo modo per attraversare! A meno che non abbiate una barca! Ce l'abbiamo! Per fortuna il camper dei sogni ha una barca! È un mare fatto di steli di palle di neve congelate! Oh! E chi adora queste palle di neve? I nostri cuccioli! Cuccioli? Oh no! Sembra abbiano qualche problema a costruire un fortino di neve! Aiutiamoli! Per fortuna siamo esperte di progetti per cuccioli! Sono così carini che ci siamo scordate del motivo per cui siamo qui! I gelati arcobaleno! Oh! Quelle là grandi sarebbero perfette! Non riesco a raggiungerle! Grazie a tutti! Il lavoro di squadra rende i sogni possibili! Adoriamo quando gli amici sostengono gli amici! Grazie per aver aiutato i nostri cuccioli a costruire il fortino! E grazie a voi per averci aiutato a prendere i gelati arcobaleno più buoni di sempre! Ciao! Ciao! Tornate presto! Yeah! Oh, è davvero stancante! Per fortuna siete tornati! Questi piccoli cuccioli creano tante bolle! Questo dovrebbe distrarli! Mai sottovalutare il potere curativo di un buon dolcetto ghiacciato! Ah!